Rilevanza penale quando si parla di lesioni anche gravi nel mondo dello sport, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della responsabilità penale in capo ad atleti laddove Cossoro tendono a operare in ambito di attività sportive violente, che sono quelle a violenza necessaria o eventuale, l'intervento ha avuto ad oggetto una distinzione tra responsabilità dolosa, quindi quando c'è coscienza e volontà da parte dell'atleta di ledere un altro soggetto indipendentemente dall'attività sportiva effettuata oppure quella colposa. L'importante è appunto distinguere nell'ambito della responsabilità colposa quella che può essere definita oggettiva da una visione soggettiva della colpa, cioè quando l'atleta pone in essere delle condotte soltanto perché si trova in un momento di foga, un momento di impeto, un momento in cui è in una transagonistica tale che lo porta a compiere determinate attività che possono essere o meno rilevanti penalmente. Questo è importante perché nei processi penali, al di là della responsabilità penale che è personale, è bene ribadirlo in capo all'atleta, vi sono poi tutti quelli che sono i collegamenti di natura anche economico-patrimoniale, perché nei processi penali ci si costituisce poi parte civile nei confronti dell'imputato. Quindi un atleta che ha patito delle lesioni gravi o gravissime da parte dell'imputato e quindi di un altro atleta andrà a richiedere dei risarcimenti molto importanti in questo senso. E quindi sposare l'una o l'altra teoria può porre a riparo l'atleta da non solo una responsabilità penale ma soprattutto da un ingente sborso di natura economica. Facciamo un esempio, ad esempio il campione del rugby che dà una testata durante una mischia a un avversario e gli rompe un paio di denti. Questo può porre dei problemi in quanto il rugby non si pone come uno sport a violenza diciamo necessaria ma violenza eventuale. Quindi bisogna vedere se c'è stato quel travalicamento in capo all'atleta e se è stato spinto da una trancia agonistica e quindi abbia avuto un portato non collegato alla sua volontà o meno. Quindi sembra di capire che ogni caso va valutato in modo particolare. Questo assolutamente come in ogni procedimento sia di natura penale che ovviamente poi di natura civile.